Il PNR è una straordinaria opportunità per il nostro paese, lo abbiamo detto più volte, ma questo è un momento di un accelerato, un momento di un coinvolgimento che noi chiediamo come regione, non solo nell'attuazione di quelle che sono le missioni dettate dal programma e già destinate alle regioni, ma vogliamo un coinvolgimento reale per supportare il governo della certificazione della spesa. La Puglia ha dimostrato attraverso la scorsa programmazione di saper spendere, saper spendere bene e vogliamo essere protagonisti di questa sfida con un coinvolgimento territoriale a supporto dei comuni che in questo momento hanno un grandissimo grido di dolore. Vogliamo dare a disposizione la nostra esperienza rispetto alla pianificazione territoriale e rispetto alla rivisitazione di alcune linee del PNR. Noi continuiamo ad andare avanti rispetto alle missioni già destinate alla regione Puglia, ricordo che abbiamo investito dei risorsi sulle reti idriche, abbiamo investito sul tema della sanità e della salute, ma soprattutto stiamo lavorando sul tema dell'energia. C'è necessità di un coordinamento nel settore del digitale, c'è bisogno che questa sfida sia strutturata attraverso un coordinamento tra l'amministrazione centrale, regionale e quella territoriale per far sì che le aspettative d'Europa siano rispettate.